È tempo di bilanci anche sul fronte degli infortuni sul lavoro. Il Lazio nel 2023 conta 84 morti ma rimane in zona bianca con un'incidenza di mortalità sul lavoro tra le meno elevate del paese. Da gennaio a novembre infatti la nostra regione fa rilevare un indice di incidenza di mortalità calcolato per milioni di occupati pari a 23,3 contro una media nazionale di 32,3. Una buona notizia purtroppo non vera in tutte le sue province. Analizzando i dati pesati sulla popolazione lavorativa infatti si scopre che alcune province del Lazio presentano un rischio di infortunio mortale sul lavoro superiore alla media nazionale. In particolare quelle a maggior rischio risultano essere Rieti e Viterbo che si trovano in zona rossa. La provincia di Roma è invece in zona bianca con un rischio di infortunio mortale sul lavoro molto inferiore rispetto alla media nazionale. Le due province mostrano un'incidenza rispettivamente di 71,8 e 43,6. Sono seguite in zona arancione da Frosinone 35 e in zona gialla da Latina 28,6. Mentre in zona bianca con rischi di mortalità ben al di sotto della media regionale e nazionale c'è Roma 18,7. Sono 84 i decessi da gennaio a novembre 2023, 54 quelli rilevati in occasione di lavoro e 30 quelli in itinere. Il più elevato numero di decessi totali si è verificato in provincia di Roma, 53 casi, seguono Latina con 12 decessi, Frosinone 9, Viterbo 6, Rieti 4. Alla fine di novembre 2023 le denunce di infortunio totali sono diminuite del 25,8% rispetto alla fine di novembre del 2022. Erano 50.397 e ora sono 37.391. Infine un dato sulle denunce di infortunio per quanto riguarda le donne lavoratrici, 14.855 le denunce di infortunio delle quali 10.497 in occasione di lavoro, 22.536 quelle degli uomini di cui 17.943 in occasione di lavoro.